Anticipazioni Verissimo ospiti di oggi 7 ottobre 201. Oggi da Silvia Toffanin sarà ospite l'attore Angel De Miguel, il quale interpreta Hernando Dos Casas della Sop Il Segreto. Angel è molto apprezzato non solo per la sua bravura ma anche per la sua bellezza. L'attore però si è dichiarato innamoratissimo della sua attuale fidanzata Yandeol, messicana. Il loro amore dura da più di un anno e spesso i due innamorati pubblicano sui propri social foto molto passionali e piccanti. Baci, carezze e abbracci di certo non mancano e le dediche sotto ogni foto è molto chiara. Verissimo ospite Angel De Miguel alias Hernando Del Segreto. Anticipazioni a Verissimo nel salotto di Silvia Toffani ci sarà Angel De Miguel. L'attore quando precedentemente è stato ospite in studio ha raccontato molto della sua vita passata, della sua adolescenza. Ciò che ricorda particolarmente di se stesso era la sua timidezza, la quale lo ha indotto a intraprendere questo mestiere proprio per eliminarla. L'attore Angel non escludeva la possibilità di fare presto una famiglia e di diventare padre. L'attore domani potrebbe sorprenderci. Inoltre Angel racconterà anche ciò che vedremo prossimamente nella sop del Segreto. Ciao!